Solo da Cisalfa, questa primavera per il tuo tempo libero e le tue attività sportive, abbiamo selezionato per te Tuta Puma Uomo a soli 44,95€ anziché 69,95€ Scarpe Nike Air Pegasus a soli 74,95€ anziché 99,95€ Panca Abbey Rocket a soli 79,89€ anziché 99,90€ Approfittane ora! L'offerta è valida fino al 15 aprile Cisalfa, il numero uno dello sport in Italia